Francavilla ospiterà il 19 agosto la Festa dell'Unità, siamo con il segretario provinciale del PD di Chieti Chiara Zappalorto per parlare di questo evento, come mai questa location e tra l'altro è la prima volta che si tiene la Festa dell'Unità dal 2005. E' la prima volta, faremo la Festa a Francavilla, c'è un partito nuovo, vincente, forte, radicato, coeso che ha deciso di palesare questa voglia di stare insieme con la Festa dell'Unità che è il momento massimo di incontro politico del PD e la prima volta sarà un momento bello di condivisione, di politica, di gastronomia, di musica, quindi vi invitiamo a partecipare. Piazza 4 Novembre sarà la piazza che ospiterà questo evento, sarà un momento anche per parlare a livello politico di quello che sta accadendo in Abruzzo, lei parlava proprio di Francavilla dove c'è stata la netta vittoria del sindaco Luciani. Sì, la vittoria di Francavilla è stata una delle vittorie più belle sicuramente, in provincia di Chieti devo dire che ci siamo difesi bene, c'è stato un bellissimo momento di vittorie alle ultime amministrative, parleremo di politica, parleremo di Abruzzo e parleremo del futuro e soprattutto parleremo di referendum che è il prossimo appuntamento che avremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Quali saranno gli ospiti che parteciperanno a questa festa? Sarà una cosa molto locale, quindi ci saranno i nostri consiglieri regionali, i nostri amministratori locali, i dirigenti locali che vedete dietro di me, sarà una cosa per incontrare, per consentire a noi di incontrare i nostri iscritti, i nostri militanti, i nostri simpatizzanti e per condividere i nostri progetti per il futuro.